Bentornati a Radio Puginion Air, questa sera vogliamo condividere con voi e commentare l'editoriale, l'articolo di Marco Travaglio che lui ieri sera quando gli stavamo commentando in diretta il suo intervento ad otto e mezzo ha annunciato, sarebbe uscito questo articolo perché ieri sera, lo ricordo, ad otto e mezzo si è parlato ed era ospite proprio per il fatto che Elena Boschi, di cui si parlerà tra poco, lo ha nominato, lo ha citato nel momento in cui stava facendo una proposta ai verti per una riforma della RAI che introduca una specie di par condicio anche per i giornalisti perché ci sono giornalisti imparziali, fondamentalisti probabilmente come Marco Travaglio ma lui ben si è difeso ieri sera, ora non posso rifare la puntata all'episodio di ieri ma andatelo semplicemente a rivedere dopo sul mio canale YouTube oppure in tutti gli store dove trovate il nostro podcast Radio Puggini On Air. A proposito, su YouTube oltre a commentare, continuare il dibattito su quello che ora vi farò ascoltare che oggi ci ha detto in questo articolo Marco Travaglio, continuiamo oltre ad iscrivervi su YouTube, anche il dibattito nei commenti sotto il nostro video. Ma allora questo editoriale Marco Travaglio l'ha chiamato Vieni Avanti a Retina, riferendosi dunque alla Boschi, ma ecco Vieni Avanti Cretino insomma è un titolo sicuramente, questa è la parodia sicuramente di Vieni Avanti Cretino, però è molto intelligente, insomma noi lo stiamo esplicitando, naturalmente non stiamo dando della cretina alla Boschi, stiamo esplicitando il titolo, gliel'ha dato Marco Travaglio, ha dato della cretina praticamente alla Boschi facendo la parodia di questo titolo. Dunque viene avanti a retina. Dice Marco Travaglio che temendo erroneamente di poter essere screditata più di quanto già non lo sia, Maria Elena Boschi si è adondata perché abbiamo riferito la sua proposta in vigilanza, infatti prima non sono stato preciso, la sua proposta in vigilanza Rai, ma ora tanto ce lo spiegherà bene Marco Travaglio la questione, che dice sperava che nessuno se ne accorgesse e invece capita, ma poi tra l'altro ha citato Travaglio, per cui naturalmente non poteva non attirare la sua attenzione quella di molti altri. Parla di Deona Marco Travaglio, questa qui della par condicio che vorrebbe applicare la legge che regola le presenze dei politici in TV durante le campagne elettorali e lei la vorrebbe estendere anche ai giornalisti, come vi accennavo. Quelli con una chiara connotazione politica, cita Travaglio, non potranno più parlare a meno che non siano sottoposti a contraddittorio. Quindi praticamente anche i giornalisti nel momento in cui sono in TV durante la campagna elettorale dovrebbero avere un contraddittorio perché secondo lei ci sono molti giornalisti schierati politicamente. Questo è vero, però l'unico che non lo è, praticamente Marco Travaglio lo ha citato, ma probabilmente perché Marco Travaglio non gliel'ha mai mandato a dire. E vedete, oltre alla destra, ci sono persone che hanno una mentalità, secondo me, molto di destra come lo sono Laboschi, Renzi, Renziani, insomma che forse sono stati il cavallo di Troia, di Berlusconi per distruggere completamente la sinistra. Infatti ora non fanno altro che appoggiare sempre decisioni di destra anche in Parlamento. Oggi Italia Viva è stata, ha partecipato alla mozione di sfiducia dicendo il suo no. Insomma ha votato come la maggioranza, come la destra e così in tante altre occasioni naturalmente. Dunque diciamo che secondo me io dico che loro sono di destra, sono degli infiltrati di destra, Matteo Renzi, Laboschi e compagnia cantante o recitante, per meglio dire. Ma andiamo avanti con ciò che ci dice Marco Travaglio. Parlando di questa proposta dice che se nelle giornate piovose uno dice che piove, un altro dovrà dire che c'è il sole. Se uno afferma che la Libia è in Africa, ce ne vorrà uno che la situi in Oceania. Tutto nasce dal suo acuto concetto di imparzialità e terzietà, che lei confonde con assenza di pensieri. Infatti si sente imparzialissima. E' inutile citarle l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Vale solo per chi pensa, vuole sottolineare Marco Travaglio, alludendo al fatto che lei non pensa evidentemente. In attesa di scoprire chi decide i giornalisti schierati da cacciare, ecco l'elenco degli imparziali prediletti dalla deputata etrusca, così la chiama Maria Elena Boschi Marco Travaglio. Ed ecco finalmente la lista che ci aveva promesso degli imparziali. Vediamo quanti ce ne sono e quanti sono a noi tutti noti. Inizia con l'ex direttore del riformista, noto giornalista sulla cui terzietà garantisce Bin Salman, dice Marco Travaglio. Poi c'è Silvia Toffanin, compagna di Persivio Berlusconi, che naturalmente lavora in tv, che avverissimo torchiò Maria Etruria e il fidanzato, dice Marco Travaglio. Vediamo come li torchiò, dicendo possiamo darci del tu? Sembrate due sposi. Mamma mia, tu sei bellissimo, ma a te l'amore ti ha fatto ancora più bella. Questo era il modo in cui li ha torchiati. Silvia Toffanin, queste sono delle frasi che cita Travaglio in questo articolo. E poi ci sono i feroci segugi di chi? Il giornale, che le rubarono 80 foto posate, dice Travaglio, e quelli di oggi che le piallarono la cellulite su un lido della Versilia. Poi vediamo chi altro c'è. E c'è Bruno Vespa, che ha citato anche ieri sera ad otto e mezzo, e quindi il personaggio più importante di questa lista, e che noi sappiamo, come dice, autore di ritratti imparziali a tutta lingua, quindi alludendo al fatto che sia un lecchino, ma questo lo sappiamo da quando esiste la TV, esiste Berlusconi, da quando esiste Bruno Vespa, non è mai stato diverso da così. E aggiungo, forse davvero passerà alla storia per questo Bruno Vespa, perché non avrei altri motivi per ricordarlo, no? Fra, non lo so, fra 50 anni, io non ci sarò probabilmente, ma se ci fossi non avrei altri motivi per ricordarlo in pubblico, se non quando appunto si parla di lecchinaggio. Allora lì mi verrebbe sicuramente in mente Bruno Vespa. E quindi nella storia forse sarà ricordato per questo. Ma vediamo cosa diceva, nel virgolettato che cita Marco Travaglio in questo articolo, all'epoca in cui Renzi e Laboschi sembravano i salvatori della patria, ma è durata poco, davvero poco, cosa diceva? In modo imparziale, a tutta lingua, dice Travaglio. Addirittura Bruno Vespa diceva, la bella avvocata toscana una vita privata non ce l'ha da quando Renzi la portò al governo. Maria Elena Boschi somiglia sempre di più alle nobildonne rinascimentali che lasciano beni e affetti perché rapite da una vocazione religiosa. Una Santa Teresa d'Avila che scolpita dal Bernini per Santa Maria della Vittoria acquista sensualità nel momento in cui la trafigge la freccia dell'estasi divina. Panorama, scrive su Panorama il 21 luglio del 2014. Insomma, capite quanto fosse imparziale questo presunto giornalista, ah scusate, Bruno Vespa, che certo è un presunto giornalista perché se i giornalisti dovrebbero essere imparziali, ma forse non è così, lo dicono alcuni che dovrebbero essere imparziali, altri invece sono orgogliosi di non esserlo, però fingono di non stare dalla parte del potere, cercano sempre di fingere quando gli viene detto, ah dillo che sei di destra, dillo che sei così, dillo che sei di sinistra, dillo, ma non lo dicono poi. Per cui forse hanno ragione quelli che dicono che il giornalista dovrebbe essere imparziale, perché poi nel momento in cui si viene fatto notare a quelli che non lo sono, cercano di nascondersi la maggior parte, alcuni sono orgogliosi, non si vergognano di dirlo, ma la maggior parte dicono no, no, io non sono, guardate fateci caso nelle trasmissioni, sono proprio falsi, certi, ma si vede da lontano, come i politici, potevano anche essere politici invece che giornalisti, insomma è chiaro, pensiamo al caso Bocchino, l'imparzialissimo Johnny Riotta poi, cita Marco Travaio, che la scorticò, scrive dicendo queste parole Bocchino subisce molte malignità dalla stampa italiana perché è bella e bionda, molto bella e molto bionda, ed è allo stesso tempo una giovane avvocato capace di mettere in soggezione e sa molto bene il fatto suo, io non vorrei mai essere dalla parte opposta alla sua a un tavolo di confronto, questo scrive a Gianni, diceva Gianni, scusate, Riotta, l'imparzialissimo, lo chiama Travaio, il 9 settembre del 2014, poi Repubblica, 22 febbraio 2014, Francesco Merlo, che inchiodò la Boschi e tutte le Renzi Girl da par suo, con queste parole Mogherini, Boschi, Madia, ah ve la ricordate pure la Madia, sì, Guidi, Lanzetta, Pinotti, non sono le rose del ventennio, né le lupe di Silvio e neppure le amazzoni di Bossi, sono invece la dolcezza della Gensenova, non affamate ma pronte a perdersi nella politica, e poi invece va a finire sempre che perde l'Italia, rassicuranti continua e pacificanti custodi dell'irruenza del capo, quindi sarebbe erruente, che è un complimento fatto a Renzi, dire che è erruente è davvero un complimento, questo su Repubblica dicevamo nel 2014 sempre, poi c'è Concita De Gregorio, talmente terza, dice Travaio, da sembrare quasi quarta, sentiamo cosa diceva Concita De Gregorio sul Repubblica il primo febbraio del 2015, quelli che per Renzi sono slogan, per Mattarella sono la misura e la forma naturale del pensiero, nessuno sforzo in entrambi i casi, i capolavori del resto hanno questo di speciale, l'assenza di sforzo apparente, vedi un disegno fatto senza staccare la matita dal foglio, un tuffo da dieci metri senza schizzi, un ballerino che si alza di un metro da terra e poi pensi bello, facile, poi sono Picasso, Greg Lugani, vi rendete conto, fa davvero ridere quello che scriveva la Concita De Gregorio, sorridono quelli così, non sudano, raramente fumano, quando le porte dell'ascensore di Montecitorio si chiudono su Renzi e Boschi l'attenzione cade sui mutui sorrisi, sui gesti fluidi e confidenti, sull'assenza assoluta di segni di stanchezza e di fastidio, dagli abiti senza una gora, dai volti senza un gonfiore da insonnia, bravo Matteo, bravi tutti, un capolavoro politico, Concita De Gregorio. Ma mi faccia il piacere, mi viene proprio da dire, ma sono imbarazzato per lei nel leggere queste cose, davvero, vabbè, da sentirsi male. Ok, questa proprio mi ha dato fastidio, questa dichiarazione, queste parole di Concita De Gregorio, oh mio Dio. Il super imparziale Sebastiano Messina, poi cita Marco Travaglio, che diceva su Repubblica «la fascinosa portabandiere del governo Renzi ha smesso di sorridere, ha socchiuso gli occhi e per la prima volta alzato la voce. Si sono girati tutti per vedere la ministra con gli occhi azzurri, che attaccava parentoriamente, perdendo di colpo l'imbarazzata dolcezza della matricola, gli avversari della sua riforma. Sembra quasi un'altra Boschi, quella che teneva le mani giunte per precisare il concetto e poi la priva per scandire la vacuità fasulla dei contestatori». Pure questo non si può sentire. Naturalmente, se ci fate caso, prima Bruno Vespa, tutti questi personaggi politici imparziali sembrano dover per forza sottolineare la bellezza, la fascinosa, la bionda, eccetera, che davvero sembrano dei visci di schifosi. Madonna. Questi come fanno a non vergognarsi di quello che scrivono? E questi sarebbero i giornalisti imparziali. Dico anche un po' maschilisti, c'è proprio un atteggiamento altro che viscidume. Poi c'è Andrea Malaguti che, vergin di servo e incomio, l'aggredì col devastante la Botticelliana e la Giaguara, Madia e Boschi, l'avanzata delle Amazzoni di Matteo. La stampa, 22-12-2014. E ora è al fin di lettore, ma sempre terzo, specifica Marco Travaglio. E poi, ultimo, ma non ultimo, il mai schierato Mario Aiello che diceva «Il fascino Maria Elena», la seduzione Boschi, vedete quello che dicevo poc'anzi. I suoi sguardi salvano l'alleanza di governo e spianano la strada di Mattarella verso il Quirinale. Il ruolo della renzianissima non è quello della Poslaran. Tutt'altro è quello della mediatrice dolce, della negoziatrice sweet, fascinosa che si ritaglia il ruolo della poliziotta buona. Convincere gli alfanei col suo garbo, fa riflettere i berlusconiani e rabbonirli col suo sorriso. Sweet Maria Elena faceva pure la parte della Madonnina in un presepe vivente, vestitino provenzale da Madonnina a rettina. All'inizio della giornata anche un golfino blu da collegiale, che poi si toglie quando il gioco si fa duro, calze nere e scarpe marroni. Lei li ammalia e loro sono ammaliati da lei. Il messaggero. 31 gennaio 2015. Oddio, che orrore. Problemino conclude Travaio con un post scrittum. Problemino dice, gli eccitati succitati erano così imparziali quando il duo Renzi e Boschi comandava. Ora che non conta una mazza, si rischia che siano un po' meno terzi. Non ci sono più gli imparziali di una volta. Questo è il fantastico articolo di oggi, 4 aprile 2024, che Marco Travaio ci ha regalato dopo un'attenta ricerca di questi personaggi che sicuramente conosce già bene, un'attenta ricerca di queste citazioni. Per abbiamo condiviso e commentato con voi questo intervento di oggi di Marco Travaio. Restate sintonizzati per il prossimo episodio di Radio Pugginio Nera.